Buonasera a tutti! Allora, siamo pronti? Facetemi un santino! Don Felice Sosciamocca! Vici, Felice Sosciamocca è un'eredità importante. Un'eredità è una rendita. Tuo figlio, tuo figlio e tuo figlio, e forse più annanza dovete recitare tutto quanto Sosciamocca. Non c'è scavo. Non c'è scavo. Tre sono i nostri figli e a loro dobbiamo fornire a chi figli, che figliastra. E noi siamo i fratelli da solito e non ci dobbiamo mai di me. Papà! Papà! Secondo me va a fare la parodia, che stai perfetto! E allora, i stai d'annuncio. E allora, i sono scarpetta. Basta! 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 D'annuncio è sacro e non ci tocca! Abbasso scarpetta! Scarpetta! Si aspettava di essere rinviato a giudizio! La mia non è una contraffazione, è una parodia! Tante causa a me, come se fossero delinquenti! E' stata rimboscata! A forza mia! E' un pubblico! Lo staccio. Non so nessuno. Ma so viva. Gloria ai nostri figli e a facci chi ci pomava. Condannando me! Condannate un'intera forma d'arte! E parlare a parole? Sì, è una cosa. Per me tutti questi discuti sono vanni. Non esistono teatri, più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Per me forte o meno d'arte! Grazie per la visione